Ritorno all'appuntamento settimanale con i libri. Il libro che vi presento questa settimana racconta una storia, una storia d'amore. Sono collegata via Skype con l'autrice di questo libro, Mamma, moglie, blogger. Cura un blog sul sito Mamme a Milano, il blog di Giuliana. Lei è proprio Giuliana Arena, autrice di questo libro intitolato Il nido di vetro, una piccola storia d'amore, edito dalla San Paolo. Ciao Giuliana, benvenuta. Ciao, grazie. Grazie a te per aver accolto il nostro invito. Allora, Il nido di vetro è sottotitolo una piccola storia d'amore, ma anche la storia di una mamma, di una donna e mamma coraggiosa, la cui vita a un certo punto scivola verso, cito le tue testuali parole, verso direzioni inimmaginabili. Giuliana, la tua vita di moglie di Luca, mamma di Tommaso e mamma in attesa, cambia quando all'improvviso ti ritrovi in ospedale a Milano con la reale possibilità di perdere il bambino che hai in grembo. Certo, sì, ho voluto proprio nel libro far capire come sia stato un cambiamento repentino, quindi da una vita perfetta, che non aveva mai avuto grandi scossoni, una famiglia felice, diciamo assolutamente normale. Nel giro di un attimo, di pochissime ore, siamo piombati insomma in un incubo nel terrore di perdere un bambino, perché allora ero solo di 22 settimane, quando sostanzialmente sono andata a Milano e la dottoressa si è resa conto che c'era qualcosa che non andava e questo bambino lo stavo perdendo. Per cui da un momento all'altro la nostra vita è cambiata e siamo entrati in un mondo nuovo, in un mondo diverso che ci ha cambiati anche poi nel dopo. Ecco, quello è stato il classico momento rispetto al quale c'è un prima e un dopo, quindi una vita normalissima, tranquilla, che di colpo ti pone davanti a una situazione, una sfida molto difficile. A volte anche una sfida più grande di te è nel tuo caso il rischio di perdere il bambino che avevi in grembo o anche la possibilità che nascesse prematuro con poi tutte le difficoltà che comporta una nascita prematura. Nel libro racconti anche gli incontri con i genitori della terapia intensiva neonatale, l'incontro con una giovane mamma siriana, Sara, il rapporto con i medici, il personale dell'ospedale, ma anche il disagio e la difficoltà di chi tornata a casa non sapeva come approcciarsi a te e alla situazione che stavi vivendo, il piccolo Matteo di 830 grammi nel nido di vetro, appunto tuo figlio così piccolo nell'incubatrice. Ecco, che sensazioni, che ricordi sia in negativo che in positivo conservi di quei momenti, ma anche appunto di quegli incontri? Ma guarda, gli incontri che ho fatto in ospedale sia durante il periodo del mio ricovero che poi nella terapia intensiva con le altre mamme e gli altri genitori sono stati incontri davvero straordinari. Ho vissuto la vera solidarietà. Io non avevo mai creduto tanto nella solidarietà femminile, invece davvero sono riuscita ad ascoltare delle storie e a costruire dei rapporti davvero di grande solidarietà e sono stati incontri importantissimi per me, molti dei quali mi porto dietro ancora oggi perché sono in contatto con molte mamme della terapia intensiva. Quindi gli incontri con le altre mamme sono stati per me fondamentali. Senza di loro non sarei riuscita probabilmente a superare tutto questo perché alla fine ci si sente capite solo dalle altre mamme. Il personale medico è stato davvero straordinario, questo devo dirlo, sia i dottori che gli infermieri sono stati eccezionali non solo dal punto di vista delle competenze, chiamiamole tecniche, ma anche perché erano tutte persone di grandissima umanità che sono riusciti davvero a farci sentire accolti e a insegnarci un po' le regole di questo nuovo mondo in cui ci trovavamo. Più difficili i rapporti con l'esterno. È comprensibile, però quando ci sei dentro ti fa un po' rabbia che magari chi sta fuori abbia una certa superficialità nel valutare quello che stai vivendo. Per cui spesso capitava o che le persone non sapessero cosa dire, come probabilmente capitava anche a me prima di entrare nel mondo della terapia intensiva neonatale, oppure si avvertiva una certa superficialità che era datata probabilmente dalla voglia di dire qualcosa per farmi stare meglio, ma l'atteggiamento di dire beh, tanto nell'incubatrice vedrai che adesso sta lì tre mesi, i tre mesi che avrebbe dovuto stare nella tua pancia sta nell'incubatrice, andrà tutto bene, come se bastasse quello, come se l'incubatrice fosse davvero pienamente sostitutiva del ventre materno. Ecco, denotavo una certa superficialità che allora, adesso la capisco, allora mi faceva molta rabbia. Per cui io cercavo di parlare solo con le mamme della terapia intensiva che mi potevano capire, no? E capivano tutte le problematiche che un bambino prematuro ha. Cioè, un bambino prematuro non è solo un bambino che nasce prima e che quindi basta metterlo un po' al caldo nell'incubatrice per farlo crescere. È un bambino che ha tutti gli organi maturi e quindi la prematurità sostanzialmente è come una malattia molto grave. Infatti il mio Matteo, come tutti i bambini così prematuri, ha avuto problematiche diverse, tantissime problematiche. Comunque gli incontri sono stati per lo più positivi, ecco. e sicuramente vivere a contatto tutti i giorni con le altre mamme nella mia situazione è stato fondamentale. È stato per me l'elemento più importante e quello che più di tutto mi ha aiutato a superare quei lunghi mesi. Certo, quindi, come dire, tante mani a cui tendere, tante spalle a cui appoggiarsi. Un dato che riporti anche nel libro, la Società Italiana di Neonatologia indica che nel mondo un bambino su dieci nasce prematuro, cioè prima della 37esima settimana di gestazione. In Italia sono circa 35.000 all'anno. Scrivere questo libro, Giuliana, parlare della tua storia sicuramente significa ogni volta ripercorrere quei giorni, quelle settimane davvero difficili della tua vita, ma anche della vita della tua famiglia. Ma forse mettere nero su bianco, quindi decidere di scrivere questo libro, è stato il modo migliore, più efficace per dare speranza e coraggio ad altre mamme che oggi vivono ciò che tu hai vissuto. Beh, io, diciamo, l'ho scritto, devo dire, inizialmente per me. Nel senso che ho aspettato il momento giusto, quindi ho aspettato qualche anno rispetto alla conclusione della nostra avventura in terapia intensiva neonatale e ho poi deciso di scriverlo. È stato facile scriverlo perché era liberatorio in qualche modo, è stato terapeutico ed è come se io avessi già in testa tutta la storia, quindi l'ho scritto davvero in poche settimane. Scrivevo tantissime ore al giorno e a un certo punto, nel giro di un mese, ce l'avevo davanti, più o meno così come l'ho trovata adesso in libreria. Per le altre mamme, non lo so, spero di sì, nel senso che spero che altre mamme possano ritrovarsi. Già alcune mamme che non conoscevo mi hanno scritto, mi hanno contattata su Facebook dicendomi che hanno letto il libro, che ci si sono ritrovate, che si sono sentite meno sole, hanno ritrovato un po' quel mondo e quelle emozioni, che in fondo non è tanto conosciuto. Ecco, questa era un po' la mia intenzione, cioè far conoscere un mondo che non è noto. Cioè, io mai avrei immaginato una realtà del genere qua, a pochi metri da casa mia. E poi sì, spero di riuscire a dare un po' di speranza alle altre mamme. Non lo so, me lo diranno le mamme che mi leggono. Infatti, leggo che i post sulla prematurità riportati sul tuo blog sono in assoluto i più letti e condivisi. Poi vorrei anche ricordare che nel 2015 hai pubblicato con la psicoterapeuta Francesca Santarelli Mamme No Panic, edito dalla Spenning e Kupfer. Quindi, sai, sono sicuramente libri, scritti, testimonianze che aiutano anche le altre mamme. Come si dice, ma al comune è mezzo gaudio, si cerca sempre di... in realtà il Mamme No Panic era più un manuale per le mamme e le prime armi con i neonati ma non parlavamo di prematurità nello specifico. Poi è arrivato invece, insomma, il libro più impegnativo e sì, sul mio blog sono molto letti posti sulla prematurità in particolare uno che era intitolato 10 cose da non dire alla mamma di un bambino prematuro che voleva un po' aiutare chi magari ha un'amica, una sorella, una figlia che sta vivendo questa esperienza a non dire quelle frasi, magari dette in buona fede che però possono così ferire o non farti sentire compresa. Esatto, quindi anche questi sono consigli, suggerimenti sicuramente molto apprezzati. Io ricordo il portale mammeamilano.com e il blog il blog di Giuliana appunto lo ritroverete lo troverete su questo sito. Ricordo il titolo del tuo libro, del tuo diario Il nido di vetro Una piccola storia d'amore edito dalla San Paolo. Come stanno adesso i tuoi figli Tommaso e Matteo? Stanno molto bene, stanno entrambi molto bene, il grande che all'epoca insomma aveva avuto ovviamente un po' di problemi nel senso che aveva sofferto molto dei lunghi mesi travagliati che noi avevamo passato in terapia intensiva sta molto bene, il piccolino grazie al cielo sta veramente bene non ha più problemi continua a fare i suoi controlli che però sono sempre più diradati adesso viviamo da settembre viviamo all'estero finalmente appena i medici mi hanno dato l'ok in particolare il pneumologo mi ha detto che potevamo andare ci siamo trasferiti in Romagna dove mio marito lavora e quindi i bambini frequentano una scuola internazionale lì e insomma diciamo che c'è il lieto fine bene allora consiglio ai nostri telespettatori il tuo libro grazie per la disponibilità grazie per aver voluto condividere con noi la tua storia alla prossima occasione grazie alla prossima grazie